Master Toc Toc Ma è Queen, fermati! Ma dove sei nascosto? Ciao McQueen, cosa stai facendo? Cruz, vado a fare una passeggiata sulle montagne! Dai, vieni con me! Oh no, non vengo! È così alto lì, ho paura! Ah ah, ecco dove sei! Oh no, ci prende! Dai, vieni, vieni! Oh no, dove siete andati? Ah ah, lo sceriffo non ce la farà mai a venire qui! McQueen, ho paura! Cruz, non avere paura! Dai, vieni qui! Oh 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 oh! Oh 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 oh! oh no 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 dai forza forza premi sul gas ti tengo dai 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 non ce la faccio è così scivoloso che cosa avete fatto cruise come stai tutto bene sì tutto bene mi fa solo male un po la ruota venite subito fuori da lì non ce la faccio è così alto oh no rimarremo qui per sempre non vi preoccupate adesso chiamo subito mastro toc toc sceriffo cos'è successo oh no ehi ci riesci ad aiutare ma certo che vi aiuto cricchetto cricchetto vieni ciao a tutti dai cricchetto girati abbassa il gancio e prova a prenderlo non c'è problema mi hai preso ottimo vieni indietro sì sì ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo ce la facciamo oh no non ce l'abbiamo fatta ma forse riusciamo a uscire qui dove ci sono questi pini mmm ottima idea ma un pino dei due lo dobbiamo tagliare maestro toc toc prendi la sega grazie cruz vai un po' più indietro super lo porto subito via da lì ragazzi venite fuori la strada è libera urrà finalmente adesso il pino starà qui cricchetto è perfetto dai ragazzi venite ragazzi ricordatevelo è molto pericoloso andare in montagna con la macchina per questo esistono delle strade apposta sì sì abbiamo capito ok non lo facciamo più perfetto adesso potete andare tante grazie per l'aiuto che c'è che c'è che non va sceriffo ora ti faccio una bella multa 50 euro oh no se lo farai di nuovo non uscirai di casa per una settimana ho capito ho capito scusami sceriffo mi sembra che sei un po' troppo severo con lui ah non fa niente la prossima volta ci penserà due volte beh è vero e tu hai capito che si deve andare soltanto in strada ottimo ciao 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 ciao